Il problema della sanità e della sua sostenibilità è che va governata, è un sistema complesso, va governato, va governato nei rapporti Stato-Regione, nel senso che la capacità delle regioni di dare un'impronta propria alla sanità deve ovviamente stare dentro alle regole generali e all'universalismo del sistema. Va governato nei rapporti con i produttori di beni e servizi, per esempio la farmaceutica va governata evidentemente, proprio perché se no non può essere compatibile con un sistema universalistico e con la tenuta finanziaria. Bisogna avere sempre chiaro questo, il nostro sistema sanitario nazionale è disegnato molto bene, nelle sue caratteristiche è evidentemente un orgoglio complessivo del nostro paese, va governato perché se no da orgoglio diventa qualcosa che può accentuare le diversità e le diseguaglianze. Va governato anche quando governare costa. Abbiamo ragionato quest'oggi sulla vicenda Stamina, noi riuscimmo a governare dicendo no, basta, chi ha avuto e non si sa perché l'ha avuto, niente, poi basta, si ferma qui perché appunto governare significa anche tenere ben presenti sempre le evidenze e quelle scientifiche sono le evidenze che non possono mai essere pretermesse in sanità. Quindi il consiglio per i futuri 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale si può riassumere in questa esigenza di governo della sanità. Grazie.